Allora, la prima volta che ho saputo l'interessamento da Juve è stato due giorni fa, esattamente due giorni fa. Per me è stata una sorpresa incredibile, anche perché fino a questo momento non sapevo assolutamente niente. È stata una grandissima emozione, perché comunque indossare questa maglia penso che tutti fin da ragazzi sogniamo e cresciamo indossando la maglia di una squadra così importante. A tal proposito, per quanto riguarda il mio trasferimento, vorrei ringraziare la società dell'Atalanta, il direttore per Paolo Marino e la famiglia per Cassi innanzitutto, perché mi hanno permesso di realizzare il mio sogno, quello di giocare in una grande squadra. E poi è giusto che io saluti tutti i miei ex compagni, perché il merito, se io sono qua, è anche loro. E un saluto anche a tutti i tifosi e la gente bergamasca, che in questi anni mi ha voluto tanto bene, con grandi dimostrazioni d'affetto. Adesso comunque sono qua alla Juve, è una grandissima occasione per me, vengo qua in punta di piedi, con molta umiltà. Il mio obiettivo è quello di dare una mano, di dare un contributo per poter vincere qualcosa. Sono un giocatore che predilige recuperare palla soprattutto, però so anche inserirmi e mi piace inserirmi in zona goal. Per quanto riguarda se mi sono ispirato a qualcuno, direi di no, anche se ci sono tanti centrocampisti bravissimi. Due settimane fa, quando ho giocato con la Juve, mi ha fatto una grande impressione Vidal. Ecco, mi piacerebbe accostarmi a un giocatore come lui. A livello di caratteristiche penso di essere abbastanza simile e speriamo di avere la stessa fortuna che ha avuto lui in questo primo inizio di campionato, che è stato fantastico. Ma sinceramente ci metterei la firma per fare un po' tutta la storia che ha avuto il mister qua con la Juve. Però, secondo me, senza stare a andare tanto lontani dal tempo, basta pensare anche un po' alla storia, io penso, di Nocerino al Milan, che magari non tutti avevano considerato questo un grande acquisto. E penso che questa stagione stia facendo benissimo. Quindi io credo che se un giocatore viene con la giusta mentalità in una squadra forte, può far sicuramente bene. È quello che mi auguro per il mio futuro e spero di dare grandi soddisfazioni ai tifosi.